e questo lo facciamo pure no, non siamo spagoli, lo spagoli siamo per l'alterale si, si facciamo questo ragione angolone si, eccolo e per caso, amore, c'era anche il mollettone dei capelli eccolo oh, eccolo mandati via si, dobbiamo andare a prendere i giornali ciao, ciccio piccolo buon divertimento per sabato grazie alla prossima ciao ciao tesoro, un becetto a lui ci vediamo grazie a tutti grazie a tutti